Disponibilità a dialogare con le amministrazioni locali da parte della Regione Campania ma al tempo stesso proseguire nel piano di ristrutturazione della rete di assistenza sul territorio, così come previsto dei piani approvati ormai da tempo. In attesa dell'incontro previsto per lunedì a Napoli sull'ospedale di Agropoli si è svolto questa mattina a mezzogiorno al municipio di Policastro un primo confronto tra il presidente della Giunta regionale della Campania ed una delegazione di sindaci del Cirento guidati dal primo cittadino di Agropoli che stanno lottando per evitare la chiusura o comunque il ridimensionamento dell'ospedale civile agropolese. Alfieri ha ribadito la tesi portata avanti da tempo sostenendo la necessità di non privare un territorio dove abitano 80.000 persone di un pronto soccorso senza dimenticare i possibili riflessi sul turismo visto che in estate graviterebbe sulla zona oltre mezzo milioni di vacanzieri. Un aspetto questo che era stato contestato nei giorni scorsi dall'Asle di Salerno che in base ai dati presentati ha parlato di un eventuale problema soltanto per il mese di agosto ma solo con un 10% in più di possibili codici rossi al pronto soccorso. Ai primi cittadini comunque questa mattina Caldoro ha detto che non si tratta di una chiusura e c'è disponibilità a ragionare per accogliere riflessioni e suggerimenti sulla tutela della salute e sulla rete d'emergenza. Temi che saranno affrontati il lunedì nel corso di un secondo incontro alla Regione Campania stavolta ufficiale. Il governatore ha anche criticato però gli interventi nell'avvertenza dell'ospedale di Agropoli da parte di chi dovrebbe occuparsi di altro nella politica regionale e nazionale. Il presidente della giunta campana ha anche aggiunto di non ricordare questioni e problematiche simili all'epoca del varo del decreto 49 che risale alla giunta Bassolino. Noi siamo interessati alla salute del cittadino, ma è il primo grande questione. Io ho sempre detto e ho ricordato, ma non lo dico io, lo dicono gli esperti della sanità perché poi c'è una certa tendenza a buttare in politica questioni che non andrebbero messe in politica. Vanno discusse tecnicamente, la salute al cittadino è una cosa seria. Io non uso questi argomenti perché non sono utili. Discutiamo nel merito. Il merito è che quello che noi dobbiamo tenere presente è che il cittadino di Agropoli come cittadino di quei comuni ha bisogno di una buona sanità e non ha bisogno necessariamente dell'ospedale più vicino che gli fa tutto e male, ma dell'ospedale giusto. E quindi la vocazione intanto non si chiude nulla, perché anche qui è superficiale dire che si chiude. Secondo me non si chiude, si valorizza, si potenzia. Col PSAUT rafforzato, il PSAUT forte, con i servizi che vengono previsti in quel plesso, in conversione, è molto più valorizzato. E sarà un punto di riferimento dei cittadini. Oggi, se guardiamo i dati, non lo è. Oggi i cittadini scelgono altro quando hanno bisogno di un ospedale. L'hanno già fatta la loro scelta. Invece noi quello che prevediamo è il contrario, valorizzare quella struttura e renderla veramente al servizio dei cittadini. Ma questo è l'interesse mio, ma anche del sindaco di Agropoli, dei sindaci vicini. Quindi sono convinto che alla fine, in questi casi, quello che vale è sempre il merito. Nessuno pensa di fare, sulla pella dei cittadini, una questione legata al conto economico. Grazie. Grazie.